Ciao ragazzi come va? Quindi come sempre noi ci ritroviamo all'allenamento del giorno Attenzione a questa parte del riscaldamento dove ci prepariamo bene le spalle Quindi attenzione perché dopo la forza noi andiamo a fare una buona verticale Quindi tutto ci preparerà là Quindi attenzione a questi esercizi A e B del warm up e ci vediamo alla forza Ciao! Ciao! Ed eccoci qui alla forza ragazzi Allora oggi bench press distensioni su panca piana 6x2, 7x2, 8x2 L'idea di questa forza è trovare un peso all'inizio che te lo porti fino alla fine Quindi trova quello giusto Se hai qualche domanda me la scrivi sotto E anche se vuoi qualche miglioramento sulla tua forza me la scrivi sotto Ci vediamo al workout Ciao! Ed eccoci qui al workout ragazzi Oggi 7 minuti di warm up 7 minute workout direbbero quelli bravi In sintesi in 7 minuti proviamo a fare più giri possibili Quindi stai attento vediamo Hai 14 calorie 7 handstand push up Quindi verticale Facendo il push up E al finale hai 7 turns to bar Addominali alla barra Guardali bene Ti dico che non sarà semplicissimo Io ti ricordo che per la serie il coach si allena L'ho fatto completo Quindi 7 minuti vai nella sezione il coach ti allena E vai a vedere cosa sono riuscito a fare Mi sono messo alla prova te lo assicuro Ancora per oggi ti dico di iscriverti al canale Lascia un mi piace al massimo Ti aggiungo che sotto c'è qualche link utile per te Valla a guardare la descrizione Eventualmente mi scrivi se hai bisogno di qualcosa E noi ci vediamo domani Allenati bene Ciao! 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 Ciao!